Buongiorno a tutti oggi vi presenteremo come si realizza il tortino al cioccolato bianco di Ginos disperdere una busta di preparato in 250 ml di latte versare negli stampini già in bianco burrati cuocere in forno ventilato preriscaldato a 200 gradi per 7 minuti decorare a piacere prima del servizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti